buon pomeriggio e buon proseguimento di giornata voi tutti cari amici ebbene dopo un picco un breve molto breve sonnellino si riprende con i video parliamo adesso di nxt anticipazione della puntata odierna di nxt che andrà in onda come di consueto nella notte tra mercoledì e giovedì live dalla salarine university winter park florida innanzitutto avrebbe un match per decretare lo sfidante numero uno al titolo nxt dei pesi leggeri tra angle guards e leo rush poi ovviamente si cercherà di capire quello che c'è stato dietro al ritorno di velvet in dream esplosivo della scorsa settimana poi bisogna capire come stanno le come sono le condizioni attuali del primo sfidante di adam cola al massimo titolo di nxt ovvero tommaso ciampa senza dimenticarci ria ripley e bianca bel air l'ultimo confronto prima del paper giù di te cover di domenica e ovviamente anche se è pronto dai giacovici per la sua sfida contro kate lee il mio grande kate lee detentore del titolo nord americano di nxt quindi puntata anche questa molto molto interessante come di come al solito ogni mercoledì già da qualche mese in concorrenza con la elite wrestling comunque vive il wrestling we are nxt noi siamo nxt iniziamoci